Ciao amici Italia Talk Games, buongiorno, lunedì 27 giugno e mentre schiumo di calore perché veramente questi giorni sta facendo troppo caldo, troppo, speriamo in qualche cambiamento repentino, vi do il benvenuto a questo video che vi mostrerà gli aggiornamenti di Football 2022 per oggi. Speriamo bene, speriamo che siano tornati gli eventi fuori dal Dream Team, speriamo che ci siano altre cose interessanti, lo vedo con voi. Prima fatemi dire altre due cose, che oggi alle 14 c'è un altro video del campionato, non è facile, non è facile la divisione 4 per me, vediamo come va, se sarò promosso, se sarò retrocesso, se mi salverò, vedremo, siamo a tre partite alla fine e può succedere ancora di tutto. Vi volevo dire che alle 17 c'è una video anteprima di un altro gioco che sono certo a tantissimi di voi piacerà, quindi non mancate e poi vi ricordo rapidamente sempre i 4 modi per supportare questo canale. Il primo e il più semplice è iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, non mi interessa qual è la ragione ma fatelo, fatelo, mi raccomando, iscrivetevi. Poi se volete potete anche abbonarvi, poi se volete potete anche mandare un'offerta tramite il tasto grazie che trovate sotto il video, oppure potete fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione che trovate all'inizio della descrizione del video. A voi non costa un centesimo di più, ve lo giuro, è la stessa cosa che farlo dalla home page di Amazon, però passando per quel link ci supportate e davvero vi assicuro che ne abbiamo bisogno. Ma detto tutto questo, andiamo a vedere le novità di oggi e incrociamo le dite, speriamo bene di non dover vedere un altro lunedì piuttosto privo di novità. Adesso lo scopriremo tra pochi secondi, quando questi benedetti caricamenti sempre si concluderanno, purtroppo. Allora, bonus d'eccesso, ovviamente non faccio un video a parte oggi per ricordarvi il promemoria delle monete, anche oggi 10 monete d'oro in regalo, alla fine di questa settimana ne saranno 100, no di queste settimane scusate, fino a giovedì e poi ce ne saranno altre 100 in regalo nei prossimi 7 giorni. Allora, andiamo un po' a vedere, iniziamo ad Authentic Team, c'è qualcosa? Niente, ancora una volta nessun evento. Io trovo questa scelta di Konami, ve l'ho già detto ieri, inconcepibile, veramente incomprensibile, ma andiamo avanti. Andiamo a vedere il Dream Team. Eventi, u, 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 Championship Open, è vero, oggi inizia il Championship Open. Allora, andiamo a dare un'occhiata al Championship Open, dettagli. Allora, ottieni premi completando le condizioni completamente, completare le sfide per avanzare a round 2, che poi mi si aggara a round 2, non ci sarò neppure, sarò in vacanza. Comunque, sfida 1, dobbiamo segnare almeno un gol in 5 partite, fare 3 punti in 5 partite e fare 6 punti in 5 partite. Vediamo, premi sfida 1, 500 punti in football, sfida 2, 1000 punti in football, sfida 3, 1000 punti in football. Onestamente speravo che almeno ci fossero premi di allenamento o altro, però se comunque volete partecipare al round 2 del Championship Open, sì, io la giocherò, tanto per mettermi alla prova e vedere se riesco a completare le tre prove. Beh, però solo premi punti in football, onestamente. Mi aspettavo qualche cosina di più. Poi c'è un nuovo evento dedicato all'Europa League, come potete vedere. Andiamo a vedere. Dettagli. Queste sono le squadre che effettivamente hanno partecipato agli ottavi di finale della 2, 4, 6, 8, 10. 12 squadre, sì. Perché non hanno messo il Napoli? Ah, perché forse erano i 32 semifinali, non mi ricordo. Comunque, qui ci sono 2000 GP e 1000 ESP di allenamento. 2000 GP, 1000 ESP di allenamento. 3000 GP, 1000 ESP di allenamento. 3000 GP, 1000 ESP di allenamento. 5000 GP e 1000 ESP di allenamento. Anche qui con ami braccino corto, però almeno ci sono i punti ESP che servono parecchio, almeno a me. Quindi, niente di eclatanti in entrambi i casi, però almeno diciamo che c'è questa novità del championship open, che così ci proviamo e vediamo che succede. Il round 2 sarà completamente differente, ve lo ricordo. Il round 1 farà una... quasi tutti coloro che parteciperanno lo passeranno. Il round 2 è quasi impossibile. Allora, vediamo un po' se c'è qualche novità in lista di giocatori speciali. Sì, il Chelsea è vecchio, l'European Championship è vecchio, l'European Master è vecchio. La novità è il Villareal. Allora, taglio questi giocatori. Danny Pareko, che è un giocatore molto adatto al possesso palla alle vie laterali, con dei buoni parametri un po' sotto vari aspetti. Poi c'è Raul Albiol, ottimo soprattutto per vie laterali, buoni parametri in difesa, anche in contatto fisico. Gerard Moreno, 88, questi tutti giocatori molto adatti per le vie laterali, è una sorta di pack non completo perché vanno tutti sulle vie laterali. Una buona finalizzazione, 85, non ha fatto male. Foyit, terziano e destro, sempre vie laterali, buona buona resistenza, che se non mi fa impazzire nei parametri. Daniuma, CLS, 80, 88, 80, migliore cosa, accelerazione 84, velocità 82, sempre tutti i sei livelli di crescita. Rulli, 82 in comportamento, parata 81, riflessi PT 83, estensione PT 82, Pau Torres, 88, 84 il top in comportamento difensivo, ed infine KB, 85, 83 contatto fisico. Diciamo che sono giocatori non proprio al top, forse solo Dani Pareko, diciamo, è un giocatore che sta molto alto, perché 89 non è male, però sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più. Il Villareal, onestamente, mi sarebbe andato bene se vicino c'era un'altra squadra, come Bayern Monaco, Juve, Inter, Milan, Barcellona, Arsenal, Manchester City, Manchester United, insomma, una squadra di maggior livello. Solo il Villareal oggi, onestamente, a me sembra un po' troppo poco. Ragazzi, questo è tutto, quindi sicuramente non un aggiornamento epocale, diciamo che l'unico elemento di novità è il Football Championship Open. Per il resto, davvero, non c'è niente che faccia creare il miracolo, ma neanche il Football Championship Open ci fa creare il miracolo, perché alla fine sono solo punti football, almeno premi allenamento me li aspettavo. C'è questo evento contro l'intelligenza artificiale nell'Europa League, e basta. Diciamo, un aggiornamento non nullo, come quello di lunedì scorso, ma decisamente mi aspettavo qualcosa di più. Però, sicuramente il Championship Open lo farò, così almeno faccio fare un po' di punti a espanche i miei giocatori, e mi piacerà mettermi alla prova. Se riesco lo faccio già oggi. Ragazzi, vi auguro una buona giornata. Come vi ho detto, alle 14 ci sarà un video sul campionato, alle 17 un'anteprima da non perdere. Se ci riesco, questa sera farò il video dedicato al Championship Open, magari anche nella prima parte, perché stavo pensando che... Sono almeno... No, fatemi vedere... Bisognerà capire come funziona. Vediamo, entra. Ho letto, accetto, va bene. Ecco, sono tre sfide diverse, quindi, come dire, bisognerà giocare come minimo quattro partite, se tutto va bene. Ma poi non è detto che vada tutto bene, quindi, quindi, vabbè, farò una serie di video sui Championship Open, tanto per dare un'occhiata. Vediamo se ci premo. Com'è la questione? Ah, è come un qualsiasi altro evento, solo che ci apre le porte al round 2, diciamo. C'è tempo fino al 4 luglio, quindi magari faccio una sola sfida e poi piano piano faccio le altre, perché c'è tempo fino a domenica. e lo intervallerò con altre partite del campionato, che sapete a me. È l'unica ragione davvero sostanziale per giocare a Dream Team. Mi piace mettermi alla prova, mi piace meno prendere le regnate, ma se continuo a giocare, perché comunque c'è il piacere del PvP di mettersi alla prova contro altri giocatori. E questo è quanto. Dai, ragazzi, buona settimana, buoni football, buon tutto, e speriamo nella pioggia, perché davvero qui è la situazione sempre più difficile, non solo per noi persone, ma anche per l'ambiente. Quindi davvero, iniziate a fare danze della pioggia di qualsiasi ordine e grado, servono davvero. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie.